Campioni! Campioni! Denis Marconato abbraccia la Coppa. La Benetton Basket festeggiava il quarto scudetto anno 2003. Poi nel 2005 ci fu il Barcellona, seguirono Milano e Siena, ci furono Supercoppe, Coppa del Re, Europei e Olimpiadi. Dicembre 2013, Denis Marconato torna in terra trevigiana. Dopo tanti anni che sei fuori ti manca l'affetto dei tifosi e tutto. E anche i ricordi sono tutti qua, nascono qui. Quindi anche aver visto una partita tre settimane fa del Treviso Basket, mi ha emozionato a vederli. La De Longhi ha così annunciato l'inserimento nel roster di un giocatore che ha fatto la storia del basket a trevigiano e che da qualche tempo si allenava con i ragazzi del team di marca. L'infortunio di Capitani Vangatto ha dato l'accelerata all'accordo. Purtroppo con l'infortunio di Ivan, loro hanno bisogno, allora mi hanno chiesto di dargli una mano e io gliela do perché è da due mesi che mi alleno con loro che loro mi hanno accolto in palestra facendomi allenare, tenendomi in forma. A Treviso fin tanto che non arriverà una chiamata dalla Serie A, maglia numero 9. E così domenica al Paracicogna di Ponzano Veneto il nuovo esordio alle ore 18 nella decima di campionato contro PN Portenone, sempre con la solita grande emozione. Ritorno in campo in una piazza dove io sono cresciuto, ho vinto tutto, quindi ci sarà sicuramente emozione.